Allora, un piccolo racconto da cantautore, quando hai qualcosa dentro, una storia da raccontare, qualcosa da dire, che vuole venire fuori, c'è un piccolo periodo di gestazione, quello che nasce dalla tua ispirazione, è una parte di te, come un figlio, l'unica cosa che riesci ad augurargli è che venga questa canzone ascoltata da più persone possibili, e attraverso essa speri di raccontare qualcosa e di lasciare una parte di te da autore. In questo caso io sono molto emozionato perché l'autore di questa canzone è qua, spero di essere all'altezza del suo capolavoro e vorrei fare un applauso a Nino Marino. Anni 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 Marino.